Nome e cognome? Lorenzo Molinaro. Ruolo? Alan. Data e luogo di nascita? 16 settembre 1992 a San Daniele del Friuli. Se non fossi diventato un giocatore di paracanestro oggi saresti? Chi lo sai. Sei fidanzato? No. Chi è il tuo idolo sportivo? Ne ho pochi. La cosa che ti piace di più di Ferrari? Ma per adesso il cibo. Pianto preferito? Domanda difficile. Ti interessi in politica? Poco. Fai una faccia cattiva per spaventare la tercera. Il giocatore più forte con cui hai giocato assieme? Presso Harrison per ora. Il giocatore più forte che hai dovuto marcare? Cortese. Chi vincerà il campionato quest'anno? Chissà. Il tuo film preferito? Ne ho tanti, veramente tanti. Che genere di musica ascolti? Un po' di tutto. Cosa fai nel tempo libero? Guardo film, leggo, cerco di studiare. Che squadra inviei ai tifi? Nessuna. Lebron James o Kobe Bryant? Kobe. Il viaggio dei tuoi sogni? Probabilmente qualcosa di lungo e impegnativo. Fai un saluto ai tifosi della Bondi. Ciao tifosi della Bondi.